Poco? Di più? No, però hai fatto 20 secondi? E' un detto 10 neanche. L'obiettivo della nostra sezione tennis è quello di favorire, promuovere il più possibile la promozione del tennis, di questo meraviglioso sport che viene svolto nei nostri bellissimi impianti sia del campus che della racchetta. La nostra offerta didattica e formativa riguarda corsi junior rivolti ai ragazzi dai 7-8 fine ai 18 anni e corsi senior rivolti a studenti universitari, docenti universitari, dipendenti universitari nonché esterni, per cui un'offerta didattica che può accontentare qualsiasi utenza. Sicuramente è una grande emozione, dato che pratico questo sport a livello agonistico, entrare in campo con i ragazzi, poter trasmettere la mia passione a loro, sicuramente è ciò che mi rende fiero di fare questo. Sicuramente la possibilità di stare in campo e poter insegnare ai ragazzi mi aiuta a crescere sia come istruttore, come persona, che anche come giocatore, dato che pratico questo sport a livello agonistico. È una cosa molto bella che mi ha permesso di fare ciò e quindi ogni giorno è una nuova avventura, sia da istruttore che da giocatore, quindi sono grato di tutto ciò. Quando si gioca, comunque quando si entra in campo, è bello anche perché, a parte il divertimento, che comunque conosci gente nuova e ti diverti tra ragazzi, è un modo anche per sbagarsi, quindi è proprio un momento di liberazione, quindi è sempre bello. Poi i campi sono molto belli, quindi è un modo per sfogarsi che comunque piace, soprattutto ai ragazzi. Qui comunque c'è anche l'opportunità di costruire delle nuove amicizie. Io personalmente ho un gran rapporto con i miei compagni anche perché appunto c'è la possibilità di divertirsi, il che è una cosa molto importante anche per socializzare. Ciao! Ciao!